Sì 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 Bro devi saltare Devo saltare raga Aspetta raga la faccio Salta prima No Gli salti Non capisco il gioco Gli saltare Aspetta Una banana di inverno C'è una banana Ma tu hai un fashion designer? Hai un? Fashion designer Dario Moccia Fashion designer No Perché? Marti 25 Cosa è l'ottacco? Attaccalo Cosa è l'ottacco? Oh Spiccia banane E' il telefono con il ragazzo E' saltato E' salta non ci sono caldo tu costi me? ma non 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 ma certo aiutati pareri forca troia ma fatti questo che ore sono? no non lo so semplice devi prendere i cosi verdi colmiare il telefono eh? eh no? eh l'ho visto il sorrisino mentre parlavate è un amico? dirlo la chat è un tuo amico? passami il telefono che almeno ho leggendo la chat ma quando mai ragazzi pure davanti agli occhi miei pure davanti agli occhi miei anche ieri in sera no è vero non è successo oh ieri pensavo a te io non è vero alexia che pensavo ragazzi ieri ero lì stavo flirtando con un'altra ragazza che io non farò il nome perchè il problema è che non eri all'interno del personaggio loro felici tra le pa- facciamogliette la sfida vai vai ma devi prendere su devi saltare arriva mai su vai vai così ma non mi lascia oh che babbo che gioco chat è vero che sto bene? mi ha detto che appunto sto bene col dura che devo essere un pochettino più criminale io e ho deciso sembra un ninja oh bravo non farmi incazzare eh scusa 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 bro il cappello cosa stai inquadrando eh? stai guardando il culo eh? testa di cazzo inquadra il culo un'altra volta e ti tiro un po- sei seduto vai lanciati lasciati andare io ho paura però no 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 aspetta aspetta no aspetta 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 io ho paura fermo lavati dai coglioni a Belicotre prendi la rincorsa e salti no le pu r Neptune ne dite qualcosa ma... giusto così guardia 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 mi sta buttando giù no 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 che vero buono ma che cazzo hai questo qua l'ho fatto da piccolo avevo sei anni perché non avevo solo di pregarmi il capirino di New York e quindi come sono fatto guardate chat questo è il primo che lo vuole come regalo? io? no a martina ok sta sta è un compromesso giusto andiamo a fare questo e cosa fa? oddio è questo lo scopo del lavoro? no a quando devi andare avanti eh dai vai vieni che salva oh 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 mamma è difficilissimo questo è flutto che sta facendo Anna? aiuti 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 oh tutto è posto bro oh bro aiuti seppelliamoli seppelliamoli giù 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 datevi un bacino sotto i corsi non me lo giravo eh diamoci un bacio sotto sotto mai datemi un bacio sotto seppolti sotto vai marci metti la testa copriamovi 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 pescino eh fresco 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 è tramontana guardate che ti rifai aaaaaaah che cazzo ti fa oh bro caro occhio è sbagliato bro mi fanno bene Oh bravo Ma non vedo come sono così semplice il percorso Ma non vedo come sono così semplice il percorso Ma non vedo come sono qua e sto sudando Ma ha beccato il cè ma l'ha visto Che si è andata? After sex Porca puttana Porca troia puttana Un appello a Bello Figo Bello Figo Fate la clip per Bello Figo Vieni qua dietro Vai Ciao Bello Figo Che devo fare? Perché non sei venuto con noi lo giro graffiti? Bello Figo Perché ti fa la lingua? Ti stanno baciando? Non te la do più Infatti non te la do più Basta A te non te la do più Basta Se tocchi il naso Martina te la da Ti tocca il naso? Basta basta Ti tocca il naso ragazzi Cosa eh? Marti non ti merita lo so perché sta sempre con le altre ragazze Sempre Non è vero Ieri ti dico tutta la serata per te Oh di di no Di di no No mi hai rossi i coglioni dalle 7 di sera Io? Ma vai a fare il culo Per andare a fare serata Io? Poi Poi Vabbè Poi cosa? Poi un cazzo Basta 7k al mese Non mi ti sei filato per niente Ti bacio Oh era tanto così Prima o poi glielo darò Prima o poi glielo darò questo bacio Non ti piaceva il tipo criminale? E io già ce l'ho il mio malessere Chi è? Non te Non più perlomeno Basta E ti vedo con quella 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 Non mi hai mai fatto sentire importante Non mi hai mai fatto sentire l'unica Mi hai fatto sempre sentire come la tua ruota di scorta E io sinceramente mi sono stufata no? È normale Ti ho aspettato per tre cazzo di mesi Tre fottuti mesi della mia vita Che io aspettavo Ti vedevo che parlavi, ballavi, facevi con le altre Ci provavi soprattutto Io lì zitta perché dico Boh Prima o poi gli piacerò È arrivato il momento in cui ti piace E continui a fare il coglione con le altre E quindi ti dico bacia Zitta baciami Però è bella mozza questa Mi è piaciuta Però non glielo date perché sono aspettato Era troppo pesi Ragazzi muti Ah 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 Che c'hai? Mi sono incastrato Arcii mi sono incastrato Non è mai No Anzi, io, io Prova Fai un pezzo Io? Dai, provaci Ma come cammini? Vai, provaci Dai Meglio, falla meglio Gamba, lanci No, bro, il braccio Davanti? Sì, non ha capito Vai, vai Sembra un granchietto Mi fai paura, bro Fai il granchietto? In fondo a me un pochino piace Però è giusto che io mi faccia desiderare un pochino da lui Perché altrimenti gli do troppe conferme Giusto, Alexi? E ci stanno seguendo? Che io è giusto che mi faccia desiderare un pochino Anche se a me in realtà piace Io non glielo ho mai detto a lui Però è giusto che io mi faccia desiderare, no? Quindi quando ha provato a baciarmi Io mi sono scansata Ma perché per forza Non per mio volere Secondo te è giusto? Hai ragione, hai ragione, hai ragione Grazie ragazzi La mostra è un piscio fragole Tu la sai? Sì No Ma sei dietro? Eh? Mi saltano la piscio fragole in aria Piscio fragole in aria? Mossa di merda, bro No, lo faccio Piscio fragole? No, lì, bro Ah Mi saltano niente con me? No, lo faccio fragole in aria Ma non è che se fai così Ma no, è una cosa, eh Oh Oh Ma che buono Ma il braccio Dammi saltare vicino Vai, salta Vai, vai 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 Oh Oh, saltano Che vuoi fare il piscio fragole? Devo buttarmi di là Ma cosa è un coglione, bro? E sta? Eh? Ha detto fammi saltare Chi? Oddio Devo farti saltare? Oh Ah Ma ti fai così solo Vai Vai Chi è tu? Tieni Dai Ti ho più schiaffiato Trisa Trisa Sì Sì Vedi quello era così Anche te? Che te Asia? Sì Dai mi sta cadendo fra, mi sta cadendo sul cazzo vibra, ha levato il messaggio non deve mai ne ha fatto il telefono da lì a sotto fra mi vibra porco mio scappa bro non di là, basco, basco di qua, di qua fa, continui a fare i messaggi, vibro il cazzo ok, vado, vado dai però, ma che schifo fai se fai il centro te lo do, un bacio però è solo una possibilità ma fai serio oh, oh problema, bravo aiuto grazie non mi prendi mai mai anzi, chico inizio il timer 30 secondi per prendermi ma scusa bro avviato, 30 ma cos'è? mi devi prendere bravo, vai a trovare il campionato solo tutto bene? tutto bene? si testo? ma che è la mano sul culo di libertina? eh? ti ho messo la mano sul culo? si non farlo ma non ti ama su no ma non vale non vale chiudi gli occhi dov'è? ma non si avvicina eh, non ti vedo eh, allora niente il bacio no, no, no dovrei sudartela ancora un po' eh, no, fa un po' già, già, non è che stai sudando poco, eh appunto, ancora di più vai fuori da coglione chiã oh cazzo oh cazzo oh cazzo fai vabbè 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 vabbé vabbè vabbè стрiveZia ma vabbè ma vabbè ma vabbè vi insegno come si fa il tuffo delfino ragazzi basta che vi inchiate un pochettino un po' come a squat poi braccio in alto testa inclinata in avanti e andate giù è molto semplice ragazzi non è molto difficile per il resto è tutto ok posso riuscire un po' così però non riesco a uscire e ti dai pizza oh porco un applauso poi avete fatto un altro anche se volete ok Marti mi sono fatto male lo psos mi sono fatto male lo psos mi sono fatto male lo psos Marti porca traia ancora dove qui sono fortunato giù la tiktok parlando alla challenge mi sono fatto male lo psos davvero so qua di voi ho fatto tutto in chat ma quanti figa la tia quanti figa la oh Marti Marti vieni ti ha detto Alexi vieni fai schifo che hai detto vieni 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 eh bravo Alexi muto muto no 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 stai lì stai lì alge stai lì ho letto di alza no no diglielo 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 come tu vieni 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 quanto figa la sia ah va bene guarda che schifo lui fa il lavoro fare l'esterno zitto zitto Asia vieni un attimo grazie grazie dai anche tu digli anche blu ah ma hai toccato si oh vatti 5 fra grande non così bro avanza avanza ti sei male termina mi stai diventato dai oh 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 capite essere oh Asia Asia oh quanto sei dopo eh appagna oh 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 l'anima 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 l'anima